Musica Elezioni, risultati, un solo sindaco al PD, Ferrari vince a Portoferraio, Elba in controtendenza, clamorosa la vittoria a campo del giovane Lorenzo Lambardi con oltre 700 voti di vantaggio su segnini, la rossa Rio Elba Claudio De Santi con ferme per Barbetti e Bulgaresi. Europee, tsunami, Renzi, PD, primo in tutti i comuni dell'Elba, trionfo dei democratici, anche all'isola, sconfitto il Movimento 5 Stelle, terzo quasi ovunque dopo Forza Italia che perde ancora terreno. La delusione di Cosetta Pellegrini, onore delle armi a Mario Ferrari, la gente ci ha giudicato spesso per quello che non abbiamo fatto, ma abbiamo fatto anche tanto. Brucia un negozio in via Carducci, un cortocircuito alla causa, intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi per l'operazione di spegnimento, deteriorata la merce all'interno dell'Ocade. Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Dunque, questo oggi è il giorno della verità, i risultati delle leccele amministrative europee. L'Elba si è dimostrata essere in controtendenza, se non altro per quanto riguarda le elezioni amministrative, si rapportano i dati con poi i risultati delle europee. C'è un solo sindaco del Partito Democratico, mentre Portoferraio va a Ferrari. Clamorosa la vittoria a campo del giovane Lorenzo Lambardi, che vince con 700 voti di scarto sul sindaco uscente vanno segnini e la rossa Rio Elba va a Claudio De Santi, conferme per Bulgaresi e Barbetti. Sentiamo. Nello stesso appuntamento elettorale due risultati diversi. Questo il commento al termine della trasmissione in diretta organizzata da Teleelba per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative dei comuni di Portoferraio, Marciana, Rio nell'Elba, Campo nell'Elba e Capoliveri. In studio, gli ospiti, nell'occasione dei due sindaci Andrea Ciumei per Marciana Marina e l'uscente primo cittadino di Portoferraio Roberto Peria, insieme all'esponente di confesercenti Marcello Bargellini e al candidato portoferraiese Luigi Lanera, avevano più o meno pronosticato che il risultato delle elezioni europee con la vittoria schiacciante del PD potesse avere conferme dirette nelle amministrative. I numeri arrivati in redazione hanno ben presto smentito questa ipotesi e le sorprese in questo senso sono arrivate soprattutto da Portoferraio. La vittoria di Mario Ferrari sul candidato del centro-sinistra Cosetta Pellegrini è infatti subito risultata larga, decisamente più delle previsioni della vigilia. La lista Viviamo Portoferraio ha infatti ottenuto 2.518 voti contro i 2.060 della lista Cosetta Pellegrini sindaco. Molto staccati gli altri, con 704 voti e forse la possibilità di avere un consigliere comunale, è risultata terza la lista Cambiare in Comune che aveva come candidato a sindaco Alessia del Torto. Più staccata in quarta posizione con 470 voti la lista del candidato a sindaco Luigi Lanera, mentre solo ultima quella del Movimento 5 Stelle del candidato a sindaco Claudio Coscarella. La lettura politica del voto va ovviamente rimandata al dato definitivo, soprattutto a livello di preferenze. L'altra sorpresa, forse ancora più grande, arriva da Campo nell'Elba, dove il 28enne candidato del Partito Democratico, Lorenzo Lombardi, ha surclassato il sindaco uscente Vanno Segnini con ben 729 voti di scarto. Due conferme annunciate invece da Capoliveri e da Marciana. Per Ruggero Barbetti la quinta vittoria in oltre 20 anni di esperienza amministrativa con ben 921 voti di vantaggio sul candidato del centro-sinistra, Fausto Martorella. Conferma anche per Anna Bulgaresi a Marciana che ha sconfitto l'ex sindaco Luigi Logi per 207 voti. Due conferme dunque per i sindaci uscenti, entrambi ascrivibili all'area del centro-destra. Annunciata la vigilia, ma comunque altrettanto importante e oltre che storica, la vittoria a Rione L'Elba per Claudio De Santi. Il candidato di Noi per Rio Castello, lista civica, ha infatti ottenuto 355 voti contro il centro-sinistra diviso. Il candidato del PD Colucci ha avuto 235 voti e la vice sindaco uscente Nadia Mazzei ne ha ottenuti 132. Elba in controtendenza dunque ancora una volta. Se in regione e in Europa il PD trionfa, da queste parti, dopo questo turno amministrativo, l'unico sindaco della PD è il campese Lambardi, per giunta nel paese con l'elettorato notarialmente più spostato a destra di tutta l'isola. L'effetto tsunami di Matteo Renzi si è fatto sentire per quanto riguarda il voto alle europee, perché il Partito Democratico è stato il primo partito in tutti i comuni dell'isola d'Elba. C'è sconfitto il Movimento 5 Stelle, terzo quasi ovunque dopo Forza Italia, che perde ancora terreno. Sentiamo. Una valanga democratica. Anche all'elba queste elezioni europee passeranno alla storia per lo straordinario successo del PD e del suo segretario Matteo Renzi, che ha trascinato il partito al successo in tutto il paese e anche in territori tradizionalmente ostici come l'isola, tutta l'isola. Si potevano prevedere forse le vittorie di Rio Marina, Orione e l'Elba, anche se non in questi termini, ma impressionano quelle di Porto Azzurro, Marciana, Capolivere e Campo. Il PD è primo partito in tutti i comuni isolani. Un voto omogeneo, quello europeo poco condizionato dalle peculiarità locali. In 7 comuni su 8 Forza Italia è risultata seconda e in 7 comuni su 8 i 5 Stelle sono arrivati terzi. Solo Arione e l'Elba e per una manciata di voti grillini hanno superato Forza Italia. È stato dunque un risultato deludente, quello del Movimento, che era reduce dalla vittoria alle politiche del 2013 e puntava esplicitamente a superare non solo i berlusconiani ma anche il PD. A Portoferraio il partito di Matteo Renzi conquista un isperato 41% con 2.549 voti, più che doppiata Forza Italia che si ferma a 1.293 voti pari al 21%. Ancora più deluso il Movimento 5 Stelle che con 1.190 voti non arriva al 20%. Dopo quelli che un po' dovunque sono i primi tre partiti, spunta la lista Tsipras con 305 voti, un buon 4,95%. Seguono con 291 voti i Fratelli d'Italia, la Lega con 229 e l'NCD UDC con 142 voti. A campo il partito del Premier Matteo Renzi convince un elettore su tre e porta a casa il 33,6%. Il margine di distacco col secondo partito, anche in questo caso Forza Italia, qui è più ridotto che negli altri comuni. Gli azzurri chiudono infatti al 27,9% con 762 voti. Nettamente staccato è il terzo partito e 5 Stelle che si fermano al 18,2%. Bella fermazione di Fratelli d'Italia che chiude al 6,6%, quindi la Lega al 4,94%, l'altra Europa a Tsipras che conquista il 3,7% e il nuovo centrodestra al 2,7%. A capoliveri i democratici superano il 32%, mentre il partito del sindaco Ruggero Barbetti, Forza Italia, arriva al 29%, nettamente distanziato è il Movimento 5 Stelle che si è fermato al 20%. Lontanissimi gli altri partiti, FDI al 4,6%, l'altra Europa al 4,2%, il nuovo centrodestra al 3,9%, la Lega al 3,7%. Anche a Marciana il partito di Renzi risulta primo con il 38,34% dei voti, secondo Forza Italia al 22,65%, terzo anche a Marciana Grillo. Il suo movimento deve accontentarsi del 19,25%, discreto risultato per Fratelli d'Italia con il 5,80% e anche per la Lega con il 3,9%. L'altra Europa a Tsipras è al 3,56%, nuovo centrodestra al 2,98%. Ennesima vittoria del PD anche a Porto Azzurro, da sempre roccaforte di Forza Italia. I democratici si attestano primo partito con il 34,7%, anche qui come a Capoliveri resta staccato di circa 100 voti il Movimento 5 Stelle che raccoglie il 21% delle preferenze. Quarto partito con 69 voti, l'altra Europa con Tsipras, quinto la Lega con 51, Fratelli d'Italia con 43 e il nuovo centrodestra con 21 voti. Anche il governatore della regione toscana, Rico Rossi, ha detto la sua sulla schiacciante vittoria del Partito Democratico e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi alle europee. Abbiamo raccolto una sua intervista, la sentiamo. Allora Presidente, un Matteo Renzi è un Partito Democratico a valanga in Italia e ancora di più in Toscana. Come sempre, diciamo che il PD di Renzi con il 40% e più a livello nazionale con il 58% in Toscana, vedremo meglio, ottiene un risultato storico e mai visto per un partito, insomma, neanche nella nostra regione. Nessuno era riuscito di arrivare a quei risultati. Mi pare che sia la sinistra che in generale il popolo italiano abbia voluto tenere lontana l'avventura, il pericolo di un'avventura che avrebbe fatto danni al Paese e abbia votato quindi con senso di responsabilità e anche con un sentimento di speranza verso il futuro. Questo getta buone basi per continuare sulla politica delle riforme, per continuare anche in direzione di una maggiore ridistribuzione della ricchezza e soprattutto il punto fondamentale credo sia la creazione di lavoro. Il problema delle persone e delle famiglie è principalmente l'occupazione e su questo davvero anche il peso che il PD potrà avere in Europa per cambiare le politiche, per indirizzare l'Europa verso politiche di investimenti pubblici, politiche espansive, sarà ancora più forte, ancora più determinante e si può aprire una fase di vero cambiamento. Un'ultima cosa, se potesse dare un suggerimento a Renzi per quanto riguarda la gestione del governo ora avanti con le riforme, accelerare sulle riforme o magari sfruttare quest'onda di consenso e andare alle urne? Io penso che il voto Renzi lo abbia avuto anche grazie al fatto che si è impegnato in un impegnativo processo di riforme istituzionali, di cambiamento della legge elettorale, di riforma del Senato e tante della pubblica amministrazione e tante altre cose ancora e la gente si aspetta dei risultati e credo che un risultato elettorale così importante possa dare spinta al PD e anche a Renzi perché nel Parlamento ci siano le maggioranze necessarie per promuovere questi processi quindi come d'altra parte anche Renzi ha detto subito al lavoro. Adesso andiamo a vedere com'è andata in tutti i comuni, a Portoferraio come dicevamo il nuovo sindaco è Mario Ferrari, scarto di 450 voti tra Mario Ferrari e Cosetta Pellegrini. Vediamo com'è andata. Cinque liste e quindi cinque candidati a sindaco, una campagna elettorale elettrizzante a Portoferraio. il risultato finale non era fatto scontato. Alla fine a vincere è stata la lista di Mario Ferrari che con 2518 voti ha staccato Cosetta Pellegrini di 458 preferenze. Infatti la corsa di Cosetta a sindaco si è fermata a 2060 voti. Buono è il risultato di cambiare in comune che ha chiuso la tornata elettorale con 704 preferenze. Può ritenersi soddisfatto Luigi la nera con i suoi 470 voti. Debacle per i 5 stelle, fanalino di coda, che hanno chiuso con solo 446 preferenze. Mario Ferrari, si legge l'emozione nei suoi occhi, una campagna elettorale condotta con attenzione ai minimi particolari, il risultato forse è questo. Non devo gioire per me stesso, ma per la squadra che mi ha dato una mano e soprattutto per i cittadini di Portoferraio perché hanno dato il segnale di volere un cambiamento. Ora sta a me andare avanti lungo questa strada. Fin da domani bisogna rimborcarsi le maniche per dire grazie a chi ha avuto fiducia in noi e dargli i risultati quanto prima. Cosetta Pellegrini ha approfittato dell'intervista che abbiamo fatto prima per augurarne l'in bocca al lupo, un pensiero per la persona che è stata sconfitta. Prima di tutto che crepi il lupo e poi la prima cosa che conto di fare è incontrarmi con Cosetta per due scambi di opinioni e soprattutto per fare un passaggio di consegne che non crei problemi a tutti gli iter che sono in corsa in comune, per non creare disagi di servizi per i cittadini. Ferrari, a questo punto forse lo può dire, lei ci ha sempre creduto o c'è stato qualche momento in cui un po' di scoramento l'aveva fatta pensare di non potercela fare? Ho detto, ho mollato il freno a mano, ho messo la prima e poi ho tirato le marce e sono andato avanti convinto e questo è il risultato, non ho avuto guasti tecnici e questo è un altro risultato, speriamo che continui così. Cosetta Pellegrini, i risultati dicono che almeno fino a questo momento non ce l'ha fatta, amarezza? Beh un po' diciamo sì, anche perché ce l'abbiamo messa tutta, è chiaro noi partevamo un po' svantaggiati avendo amministrato per dieci anni e quindi chiaramente la gente ci ha giudicato spesso più per quello che non abbiamo fatto che per quello che abbiamo fatto, però devo dire che noi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di spiegare quello che siamo riusciti a fare e quello che vorremmo fare per Portoferraio, aspettiamo e vediamo cosa succede, però in questo momento i risultati sono questi. E così andassero le cose, cosa è mancato, così a caldo, dove ha sbagliato in campagna elettorale o dove è stato più bravo l'avversario? Ma io non penso di aver sbagliato, anche perché la mia squadra è stata una squadra brava, si è messa in gioco, ha parlato con le persone, quindi non credo di aver fatto errori, le persone è giusto che decidano per come sentono, faccio l'imboccarrupo al Ferrari, spero ancora di vederle che lo fa a me e vediamo come va a finire. Ben ritrovati in studio, ci spostiamo a Marina di Campo dove Lorenzo Lambardi è il nuovo sindaco, il giovane del PD, capolista del Movimento Punte a Capo, stravince su segnini e lo distanze di ben 730 voti. Vediamo com'è andata. E' Lorenzo Lambardi, il nuovo sindaco di Campo nell'Elba, con la lista Movimento Punte a Capo, si accaparra 1793 voti sul sindaco uscente Vanno Segnini della lista Nuovo Progetto per Campo, che prende 1.064 voti. Su 4.292 aventi diritto hanno votato 2.952 elettori, 27 le schede bianche e 68 le nulle. Abbiamo raggiunto telefonicamente il neosindaco, proprio mentre con i suoi sostenitori stava festeggiando per le vie del paese. Non mi aspettavo di questa proporzione, avevo fiducia ma questa fiducia è stata ampiamente ripagata veramente, non ci sarei mai, non avrei mai pensato, non avrei mai pensato la cosa del genere. A cosa pensi sia dovuto? Ma io penso alla voglia di cambiamento, soprattutto nei contenuti e soprattutto nei modi, nei modi con cui è stata condotta la pubblica amministrazione e soprattutto la campagna elettorale. Una priorità? La priorità è il rilancio turistico, non ce n'è nessun altro, il rilancio turistico del comune e l'aiuto alle famiglie residenti, questi saranno i due atti fortunatissimi. Nessuna sorpresa a Capoliveri dove la campagna elettorale aveva già fatto pensare a una netta affermazione del sindaco uscente Ruggero Barbetti. I dati definitivi di Capoliveri confermano questo e Barbetti ha chiuso con 1585 voti lasciando al suo antagonista soltanto 664 preferenze. L'intervista è di Salvatore Muoio. Lo spoglio è appena finito, siamo qui con Ruggero Barbetti, riconfermato primo cittadino di Capoliveri e i due consigliari comunali che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, Andrea Gelsi e Leonardo Cardelli. Un primo commento a caldo, così, sindaco. È un bel team, no? Abbiamo stravito mille voti di differenza per cui più di così non potevamo fare. Grandi preferenze, due più votati. Grazie a tutti i capoliveri. Grazie a Capoliveri. Grazie a Capoliveri. E quindi è stato riconfermato tutta la linea che proseguirà così per i prossimi anni? L'avevamo detto fin dall'inizio, ci sarebbe stata una continuità dell'azione amministrativa, siamo sempre noi e quindi vogliamo dare un contributo per un nuovo sviluppo di Capoliveri. A Rio nell'Elba il nuovo sindaco è Claudio De Santi. La divisione del centro-sinistra e le ottime aspettative iniziali di Claudio De Santi lasciavano aperta ogni possibilità. A chiusura degli scrutini di tutti i seggi i risultati definitivi vedono quindi l'affermazione di Claudio De Santi con 355 voti. Pino Colucci ha ricevuto 235 preferenze e Nadia Mazzei si è fermata a 132 voti. Sentiamo le dichiarazioni a caldo del nuovo sindaco. Sindaco, si aspettava questo risultato? Come va a letto? Questo risultato era nell'aria. Noi eravamo abbastanza convinti di riportare questa vittoria perché Rio l'aveva manifestato in maniera abbastanza chiara. Una vittoria importante, però ricordiamoci che è una vittoria per il Paese, non per me. A Marciana Anna Bulgaresi confermata per il secondo mandato la lista civica del sindaco uscente vince su Luigi Logi. Anna Bulgaresi aveva chiesto al Paese la fiducia per il secondo mandato e gli elettori hanno risposto positivamente come dimostrano i voti dati al sindaco uscente. 744 voti con il 56,7% dell'elettorato. Per Luigi Logi, capolista di Marciana e Insieme, le preferenze sono state 567 per il 43,25%. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con il sindaco Bulgaresi, probabilmente impegnata a festeggiare, ma non mancherà certo l'occasione nei prossimi giorni per poter sentire le sue dichiarazioni. Adesso voltiamo pagina e mentre eravamo tutti impegnati con i risultati delle elezioni amministrative a Portoferraio si è verificato un incendio all'interno di un negozio in via Carducci dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri, i carabinieri più che altro per la deviazione del traffico. All'interno del negozio si è sviluppato questo incendio probabilmente a causa di un cortocircuito, ma sentiamone di più nel servizio. Intorno alle 15.30 è arrivata una richiesta di soccorso ai vigili del fuoco di Portoferraio per un incendio che si è sviluppato all'interno del negozio Carillon, un negozio di arredi per interni che si trova in via Carducci a Portoferraio. Probabilmente le fiamme sono state causate da un cortocircuito partito dal negozio dove erano collegati la cassa, il POS e il telefono cordless. Si pensa che possa essere escluso l'incendio doloso poiché all'arrivo dei pompieri la porta risultava chiusa perfettamente ed è stata la stessa proprietaria ad aprire. Sul posto sono arrivati due mezzi e le operazioni di spegnimento sono durate poco meno di un'ora. I vigili del fuoco hanno usato degli estintori all'interno del negozio dove la mancanza di ossigeno ha impedito che si sviluppassero le fiamme. Quelle poche superlettili che iniziavano a bruciare sono state spente all'esterno con l'acqua. Tutta la merce si è rovinata a causa del forte ed acre e fumo. Sul posto si sono recati anche i carabinieri che durante le operazioni di spegnimento e di bonifica hanno deviato il traffico veicolare da via Carducci su via Mascagni. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie di essere stati con noi. A voi tutti una buona serata e arrivederci. Grazie di essere stati con noi.